Oggi ragazzi siamo su Long Neck Run 3D Eh si, Roby, Roby dove vai con questo colo lunghissimo? Chi ha il colo più lungo tra me? La giraffa, ah no tra me e te Tra me te la giraffa, è ovvio che la giraffa, la giraffa c'era il colo lunghissimo, dai riziamo a giocare Scrivete voi qui sotto nei commenti, secondo voi chi ha il colo più lungo? Allora Roby Ora siamo arancioni, tra un po' saremo blu secondo me Sì, e guarda quanto abbiamo il colo lungo Vabbè, questo qua è praticamente il primo livello, quindi ci sta Sì, ci fa vedere come si gioca Ah, guarda In base a quanto abbiamo il colo lungo, ci dice che siamo un animale Esatto Roby, però adesso fammi provare Allora, vediamo un po' quanto riesco a farlo lungo Qua muovi velocemente per lo vedi tutti Ah, cavolo E ora? E non hai il colo abbastanza lungo a quanto pare per prendere quelli Muffi Ah, no, ho capito, puoi prendere solo quelli del tuo colore Veramente Sì, Dani Ma ora ho cambiato colore E infatti prenderei solo anche gli arancioni Però guarda, no, no, no No, non ci vedo Però guarda, guarda che cosa hai combinato Mi sono distratta Abbiamo 5.4, no, voglio sapere qual è quello Sì, è tipo un T-Rex gigante Allora, ma se il primo livello è giraffa Cioè Esistono animali con un collo più lungo Voi quanti ne conoscete che hanno un collo lungo più della giraffa? Non me ne vengono in mente, Dani Neanche a me, Roby Però adesso lo scopriremo Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale Sai perché lo scopriremo, Dani? Perché? Perché ci sto giocando io Quindi qua adesso la qualità è molto più alta rispetto a quando giocavi tu 8.5 Oh, guarda, avevo detto che ero un T-Rex È vero, Dani Wow, bravissima Allora, non è che il T-Rex ha il collo più alto della giraffa Praticamente questa qui fa finta che sono tipo i metri Quindi noi adesso col collo siamo arrivati a 8,5 metri Wow Io voglio sbloccare il 9 Allora, vai, Dani, concentrati Cioè, T-Rex... No Ah, è giusto Dovevi prendere il blu Vabbè, Roby, recuperiamo, recuperiamo Ok, non prendere l'arancione, eh Mi raccomando, altrimenti poi perdi Ma sta attaccata con la testa E si tondola con il collo Fa super ridere questa cosa Ok, prendi tutti quanti quegli arancioni Guarda, guarda, wow Tutti gli arancioni E ne hai lasciati tantissimi dietro Mannaggia a te Però, guarda, guarda, guarda Ok, 1,6 Quindi siamo a 11 Guarda, ora arriviamo a 9 Che cos'è? Ah, io lo so che cos'è Che cos'è, Roby? Chi è? È una statua dell'isola di Pasqua L'isola di Pasqua è una località Non so dove si trova Quindi non me lo chiedere Ah, questo aspetta Questo lo devo fare io Ecco, questo è quella più scarsa No, vai, vai No, no, no Dovevi fare Che lingua era quella che hai parlato? È l'isola che si parla Nell'isola di Pasqua Ah, capito Ah, ma qui ci si è andato senza di me Cioè, non mi hai invitato Eh sì, ci sono stato a Pasqua Ah, voi ci siete mai stati in questa isola di Pasqua? Ci sono stato a Pasqua con Pasquale Tutti Pasqua, Pasqua Sono stata brava, dai Più o meno, più o meno Allora, però sai qual è la questione? Che si fa con i Cosimo? Cioè, abbiamo lo shop Cosa possiamo prendere? Ah, allora possiamo comprare Sbloccare random un nuovo personaggio Oh, oh Sembra che ci siano alcuni figli C'è anche tipo il re, tipo Il coniglio Ma tutto il proprio puccettino Ma che significa il proprio puccettino? Sì, è tutto il puccettino Abbiamo una carota dietro Sì, sì, Robby Dobbiamo nutrirlo E fare, avere il collo più alto Il collo più alto che si può Il collo altissimissimissimo, Dani È bellissima Poi fa carota così Ma scusami, poi le carote come se le fa a mangiare Se hai il collo così lungo? Beh, le troverà da qualche Su qualche albero Qualche albero Ma le carote che mica crescono sugli alberi, Dani Robby, quante domande Non lo so E chiedi ai creatori del gioco Eh, ma io mi Io comunque mi preoccupo per il nostro amico coniglio Ragazzi, e voi avete mai avuto in questo gioco Il massimo Oh Il massimo Dani, adesso Adesso Mamma mia No, non lo riusciamo neanche a vedere Guarda, sono 25 Wow Sono alto come la spinge egizia, Dani 25 metri Cioè, ragazzi Allucinati Cioè, voi Non siamo in Egitto, Robby È il coniglio Ragazzi, voi ci avete mai giocato E se sì A che livello siete arrivati? Ora io però sono super Mica curioso di sapere quali sono le altre cose che possiamo sbloccare Cioè, abbiamo già sbloccare Cioè, abbiamo già sbloccato la giraffa Il T-Rex Oh, Robby Può essere Hai preso il verde Non so se è stata una scelta corretta Ma in realtà è uguale Anche se prendevi il blu Esatto, Robby E io avevo già calcolato tutto Sì, sì, calcolato tutto Cosa Brava L'arancione è la scelta corretta Perché ce ne sono di più arancioni rispetto ai blu Guarda qui, guarda qui Forse arrivi a 2,9 Forse Vediamo se ci riesco Pian piano Mentre andiamo avanti Non so se te ne sei accorta Ma sblocchiamo nuovi ostacoli Questo si gira Oh, oh Ah, vabbè Ma devi essere molto alto per prenderlo Sì, ma se non arriva alla fine Cioè, non sono giustificato Perché diventa difficilissimo Arancione, arancione Top No, Robby Noi dobbiamo essere imbattibili in questo gioco Allora, qui proverò a prendere anche tutte queste gemme Guarda, è più lungo Fa davvero ridere Adesso verde, ovviamente Prendo anche la chiave Bravo E altro verde Ok, stiamo attenti ai nuovi ostacoli Forse arriva al 3.3 Dai, con le orecchie Sì, sì, che ce la fai, ce la fai Sessanta, due per tre Sei, dodici, diciotto Cioè, cento, trenta Non so quanto siamo alti Vediamo Vediamo No, per poco Però abbiamo superato il record Perché prima abbiamo fatto 25 Adesso ho fatto 26 Manca sempre di meno Allora, Robby Vediamo se possiamo comprarci qualcosa No, servono 2500 gemmettini Ok, allora dobbiamo impegnarci Sì Andiamo È tanto a quanto pare Ma sbaglio o ho aumentato anche la velocità in questo gioco Non lo so, forse il gioco è lungo No, perché siamo un coniglio Il coniglio ovviamente tenta di andare veloce, Dani Non lo so, mi sembra più veloce Ragazzi, anche voi lo vedete Ma i conigli sono veloci Hai mai visto un coniglio lento? No No Esatto, appunto Attento Aiuto, aiuto All'altra parte, all'altra parte, all'altra parte Wow Grande Non mi mettere ansia No, 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 che ansia, che ansia Solo che voglio vedere qual è l'altro livello Ah, a 30 metri Comunque adesso ho fatto tutta la perfezione No, ne hai saltato uno Vabbè, per uno Cioè, non mi possono non dare il premio Ah, vediamo 4,3 Tanto come bonus Forse ci siamo Dai, speriamo Ragazzi, lasciate tanti like Perché lo stiamo per sbloccare Me lo sento 34 Sì, è il Tempio Maya, Dani Esatto, ma guarda Ci sono un sacco di monumenti che stanno uscendo Sempre più alti Allora voglio vedere Magari poi diventeremo alti come un pianeta Vai, Robi Devi superare il mio record Eh, questo qua Il livello bonus Dove si prendono le giornate Sì, vabbè Questa volta lo fai tu L'altra volta l'ho fatto io Eh, sì, esatto Weee Weee Ah Sono il coliglio Dai che se arriviamo a 2500 Possiamo sbloccare Eh, sì, ma no Non arrivo a 2500 Cioè, ce ne sono 3, 4 Qui mica ce ne sono Ah, giusto Arriverai a 1800 Secondo me Weee Tutte, 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 tutte Tutte Non ho fatto capire niente I nostri amici a casa, Dani 184, non male Però adesso faccio il livello Davvero Vediamo se Ok Ora sei partito blu La febbre, la febbre Carico, ora la carico Verde, vediamo cosa succede Sì Oh Ti prendo tutto Io l'avevo detto Ragazzi siete testimoni Che era tipo calamita Wow Dani Seria lo difficile Perché non riesco a controllarlo bene A quanto pare Ma dimora Perdi l'equilibrio Guarda Eh, ma solo per Solo per 3 Perché prima ti ha dato il per 4 Non è valido Oh mamma mia Ok Quanto c'è alto Ok Ok 3 Solo 35 Serve 38 38 È altissimo 38 Mannaggia Per davvero poco questa volta Ma secondo te Oltre a questo monumento Che si trova in Brasile Cos'altro può uscire? Non lo so Cosa c'è più alto di quello Cioè Qual era facile da capire Qual era Perché è troppo famoso Come monumento, Dani Esatto Voi lo conoscevate, ragazzi? Dani Deve essere più reattiva comunque Allora Non iniziare Eh, ho capito Ma ci servono le gemme Se vuoi sbloccare altri personaggi Il coniglio era bellissimo Ah, è vero Dai, piano piano Non so perché quella gemme era troppo alta Forse hai sbagliato qualcosa Guarda Dici, Robby? È strano Oh, ne è saltato uno Ora sei a posto Dai, dai, dai Prendili tutti Robby, devo dire che è difficile Perché Sì, più si fa alto Più non capisci più niente A un certo punto No, non ho fatto il record No, 4.1 Guardate Ah, per poco Il moltiplicatore qui era essenziale A quanto pare Vabbè 23 Eh, non arrivi neanche al tempio No, dai Dani Eh, dai Non hai fatto neanche 30 Possiamo sbloccare Io dico questo Il braccialetto Dai, Dani, no Mannaggia Però adesso abbiamo abbastanza gemme Per poter prenderci un nuovo personaggio Qui che... Ah, ok Vediamo cosa ci riuscirà Ragazzi, secondo voi cos'è? Il ninja Eh, sì, perché il colpo del ninja è così fatto bene Che praticamente non si avvia subito Ci metto un po' Allora, qui tutti quanti blu Non devo saltare nessuno Siamo al livello 13, Robby Sì, al livello credici Credici in questo gioco Che andrà tutto bene Ok, qui brido tutto questo Allora, mi raccomando, Dani Proviamo a far uscire la febbre Ok, feather Febbre, sì Cioè, sì, sì Diventa tutto quanto Super luccicoso Che cambia colore, Dani Ok, vado con i verdi Non so perché Mi è venuto da vendere i verdi Speriamo che ho fatto la scelta corretta Oh, no Ti ho preso È la prima volta che... No, dovevi scegliere il blu, Robby Era blu No, era quello arancione Guarda che ora c'è il verde Eh sì, ma non riesci comunque Oh, ma perché a me da sempre moltiplicatori Di meno rispetto a te Oh, ancora cadi, Robby Sì, voglio cadere Allora, io ti spiego Perché non funziona Perché voi non state lasciando tanti like E non vi siete iscritti al canale Ora, dopo che ho detto questa cosa Guarda, guarda, guarda Cioè, aspetta, aspetta Funziona sempre Aspetta, aspetta Tre secondi per iscrivervi al canale Ok Uno, due, tre secondi Ok, se vi siete iscritti adesso Dani riuscirà a vincere Riuscirà a fare il record Guardate Guardate qui Puoi andare a continuare col blu? Sì, Robby, perché ora devo prenderle Sì, tutte 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 le hai prese Ok Ora sono arancione Ora sei concentrata, sento Sì, Robby Non posso deludere i nostri amici Questa è la super concentrazione delle nostre Dani Dani che si concentra come non si è mai concentrato in vita sua Hai dimenticato una rotellina, Dani Quella potrebbe segnare un'altra rotellina, Dani Oh, ah, la febbre Eh sì, vabbè, la febbre quando hai finito tutto Dai Adesso schifo Però, però, però 4,1 Non l'avevo mai fatto Eh Io te l'ho detto che funziona Sì, no, mi sa che l'avevamo già fatto 4,1 34 Serve 38 Però abbiamo fatto di più di prima Non l'avevo mai fatto No, 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 no Ho fatto 35 e passa prima Non diventare triste Guarda Ora avremo altre gemme Così, così Guarda, sembra un balletto Il bello delle gemme Il bello delle gemme Secondo te Secondo voi ragazzi ne prendo di più facendo così No, Robby Secondo te sì Perché guarda, le prendo un po' tutte No, ne salti È solo che non le vedi Ma le salti Ma se vado dritto Di più io soltanto ora Invece così Prendo tipo un po' tutte No, Dani Io voglio riuscire ad arrivare a quell'altro monumento D'accordo Quindi io confido in te, Robby Potere della forza Potere della forza Ok, potere della forza Ma ma puoi darmi un potere migliore Che del potere della forza Oh, febbre Febbre Sì, sì No, no Oh, ok Sei in una per fare in una Ottimo, ottimo, Dani Guarda qui Guarda qui Che collo lungo che ho C'ho il collo più lungo che tu abbia mai visto In tutta la tua vita Speriamo adesso che però mi dà un mostro Moltiplicatore decente Non come le altre volte Che colore, che colore, che colore Ah, blu, blu, blu Ok, continuo col blu E adesso verde Ah, verde, bravo, bravo Adesso il verde Vai che sei verso la fine Dai, 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 dai 5,6 Da 81 Forse Oh, oh Forse Ah, ok Allora No, no, ci arriviamo Ci arriviamo Perché ho fatto più 374 Quindi qui superiamo i 38 Guarda qui Guarda qui C'è La torre di Pisa Anche Ragazzi C'è Bravissimo Non abbiamo parole Non abbiamo parole Quindi Fammi la prova Fammi la prova Ci vediamo domani In un prossimo video Ciao Ciao